allora io sono il tecnico della situazione le ricordo che bisogna fare quel gesto davanti alla webcam ok ok perfetto io però le chiedo se può fare quel gesto che le chiedevo davanti alla webcam benissimo ok perché poi segue però adesso lo deve rifare ok molto bene perché così è un la webcam segue il relatore ottimo grazie va bene dunque io vorrei parlare un po di questo porto di come si è evoluto e di come non si è evoluto adeguatamente perché siamo in un mondo in forte evoluzione chi rallenta è in difficoltà e quindi seguirei due passaggi organizzativi abbastanza epocali il primo organizzativo che si è concluso con la riforma portuale del 92 e che è il secondo invece infrastrutturale che è adesso e le ho vissute entrambi in prima persona per cui le cose che vi racconto non le ho lette ma le ho vissute però forse prima di questo vorrevo raccontarvi di un altro fenomeno evolutivo ligure non genovese ma camoglini che dice abbastanza a metà dell'ottocento i camoglini possedevano la più grossa flotta mondiale di velieri al mondo però all'inizio del secolo era nata la la motorizzazione motore sulle navi camoglini hanno cercato per un po' di evitare il motore addirittura hanno scritto al governo di proibire l'installazione del motore sulla flotta italiana negli anni 80 il governo fortunatamente non ha accettato e il camoglini la flotta camoglini in 30 anni è scomparsa questo cosa ci dice perché lo cito uno perché adesso siamo in una situazione abbastanza analoga col porto ma soprattutto perché mette in risalto due cose fondamentali la prima il costo dell'evoluzione cambiare durissimo però il la necessità dell'evoluzione se non cambiamo diventa ancora peggio e nel discorso che faccio però non vorrei limitarvi a dirvi come è avvenuto come sono avvenuti i vari fenomeni che oggi noi abbiamo sempre la il vizio di fermarci al come io tento per quanto possibile per quanto giusto sbagliato che sia di andare al perché è avvenuto e quindi cercare di spiegare perché succede ora il problema di fondo è che siamo nell'era della logistica e la logistica e la logistica è marittimo portuale perché solo il mare ha la potenzialità necessaria servire il villaggio globale sono volumi di traffico che in terra non viaggiano più o viaggiano in mare possono viaggiare immaginalmente in terra ma il grosso viaggia in mare o non viaggia quindi abbiamo questo sistema marittimo portuale il nome ci dice già qualcosa è fatto di due parti la nave e il porto con che hanno logiche e comportamenti molto diversi la nave appartiene al capitalismo più puro anzi io dico è l'unico mercato in concorrenza perfetta e quindi ha una tendenza l'evoluzione fortissima il grosso pregio del capitalismo è questa violenza evolutiva che a volte bisogna frenare perché o cambi o non resisti più o non ci sei più il porto invece è almeno da noi una struttura fondamentalmente pubblica e pubblica purtroppo in questa nostra situazione il meccanismo opposto cioè difesa del presente dimenticandosi del futuro se noi se una mia scelta porta mette in crisi 20 posti di lavoro si modificano si mobilitano tutti se una scelta come questa del progetto che poi illustreremo permette di creare nuovi posti di lavoro 400 mila 300 mila guardate che non bluffo è così non gliene frega niente a nessuno perché è un futuro che non riguarda ma la cosa che mi colpisce a parliamo tutti di lavoro i sindacati non si sono mai fatti vivi e poi altri che non ci prendano sul serio ma in fondo questo è uno studio che ha fatto il Politecnico di Torino ha pubblicato due libri su questo studio l'ha convalidato il Rina abbiamo fatto dato uno studio a Rina però non ho mai visto un sindacato un'organizzazione che è sindacale che ci dice ma cos'è che possibilità ci sono dove siamo e purtroppo in questa dualità mare porto il mare è l'anello grosso il porto è l'anello piccolo il mare tanto per capirsi in un viaggio dalla dall'estremo oriente in Olivia si muovono appunto perché in concorrenza perfetta ma parliamo di un valore medio siamo dai 1500 2000 dollari a container il porto saremo sui 100 dollari a container sì e no forse anche meno eppure il porto è l'elemento determinante che determina l'intero ciclo quando noi abbiamo messo i primi container a Genova prima nave porta a container negli anni 67 ci siamo trovati con un porto incompatibile con la nuova struttura organizzativa e dopo un po' siamo scappati via ma non è che il porto ci costasse caro anzi non mi ricordo le cifre anche perché mi interessavano poco ma è una cifra abbastanza modeste non offriva servizio richiesto dopodiché la nave costruita per lavorare in 12 ore stava tre giorni in porto e questo non è che a questo punto la nave fa un viaggio sulla Sardegna al posto di due ma salta tutta la catena logistica perché a quel punto il cliente non mi dà il carico perché io non sono competitivo con gli altri che usano un sistema meno condizionato dal porto quindi con transit time più veloci non ho il camion che riescono a girare perché se io parto venerdì nessun cliente così gentile a darmi il carico lunedì meno danno giovedì e venerdì non ce la faccio a fare il fronte questo fatto che il porto condiziona l'intera catena logistica in Italia lo ignoriamo ma non è che lo ignorate voi o gente non addetti al lavoro ma lo ignorano anche gli addetti al lavoro eh confesso che sono rimasto abbastanza scioccato quando noi abbiamo dato questo studio a Rina di validazione dei nostri studi Rina ha fatto un bellissimo lavoro ha calcolato costi di impianti di gestione potenzialità eh tutto poi alla fine c'era da dire ma si paga l'impianto e e Rina ha messo un apprezzo di vendita del servizio a centosettanta mi pare euro a container e dice sa si paga un po' poco è inattivo ma di poco siccome io ero interessato invece di presentare un oggetto che aveva una buona redditività ho detto ma mi aumenti di venti euro a container il prezzo portuale e quadriamo coi conti ma non possiamo perché il prezzo di mercato dell'attività portuale oggi è centosettanta non puoi fare centonovanta ma siamo matti il nostro problema non è risparmiare dieci o venti euro sull'attività portuale è riuscire a fare il salto tecnologico che mi permette di avere una tecnologia compatibile con i nuovi strumenti di trasporto che mi fa risparmiare come vedremo cinquecento euro a container che in verità oramai sono mille l'obiettivo non esistono problemi portuali esistono problemi logistici condizionati dalla cifra cosa portuale a questo punto vediamo il primo problema organizzativo vorrei uscire dai tempi ma finora mi pare che vada e la nostra struttura organizzativa italiana era corretta col sistema tradizionale andava benissimo anzi direi leggermente avanzata ehm l'articolo centodieci del codice della navigazione ehm riservava l'esclusiva del lavoro portuale a un gruppo la compagnia che lo sfoceva correttissimo il rapporto tra l'armatore e il porto era intanto un'attività fortemente lavoro intensive e il rapporto armatore porta un rapporto assolutamente occasionale e aleatorio per cui l'armatore veniva aveva bisogno di cento anche cento uomini erano dei numeri enormi al giorno li usava per cinque sei otto dieci giorni poi se andava via non veniva più nessuno è in grado di assumere i portuali quindi se non avessimo dato un'esclusiva eh l'armatore venendo si appoggiava e non è che non quando fino a quando non abbiamo dato l'esclusiva si appoggiava un fiduciario il quale gli diceva io trattava il prezzo dieci euro al chilo o eh tanto al giorno andava in giro e offriva la metà di quella cifra gli uomini e questi uomini venivano perché la situazione era drammatica accettavano tutto si chiamava il caporalato il caporale prendeva circa metà del prezzo che fatturava abbiamo fatto questo bellissimo corretto poi veniva l'evoluzione tecnologica a quel punto come vi ho detto il porto è diventato nucleo dell'organizzazione ehm di trasporto non potevamo avere uomini a giornata pensate se una fabbrica tutte le mattine dovesse assumere degli uomini qualsiasi in un blocco di ottomila che vengono e fanno il lavoro non sanno cosa c'è da fare non hanno rapporti fra di loro ignorano tutto non funzionava e ehm abbiamo subito uno scontro violentissimo nel sessantanove abbiamo perso per due anni perché abbiamo concordato un prezzo con i portuali a gostia a quel tempo il sindaco il quale tutta gente in buona fede guardate che io non parlo mai dei comportamenti scorretti o corrotte delle persone penso che sono marginali io che mi considero l'ultimo dei marxisti penso alle ferre necessità come diceva Marx del sistema produttivo eh con a gostia avevamo concordato dopo lunga battaglia che ci dava gli uomini per due mesi in modo che uno li istruiva poi faceva una squadra che per due mesi lavorava non era meglio ma poter poter funzionare non ha funzionato contro la loro logica siccome il nostro è un lavoro buono se io oggi faccio quel lavoro e lei ne faceva uno invece un po' più sgradevole il giorno dopo diceva ci vado io e quindi non è successo niente a quel punto noi siamo scappati da Genova fortunatamente abbiamo trovato uno spazio a specie abbiamo ripreso siamo andati avanti a Genova nel 67 è arrivato a Danino un simpaticissimo professore di filosofia parlava benissimo diceva delle cose affascinanti prima volta che l'ho sentito sono rimasto affascinato era anche molto giovane e sono rimasto affascinato ho detto presidente se serve io sono qui a disposizione non ha fatto niente è stato al potere per 13 anni tutto assolutamente immobile e a quel punto a confitarmi ha incominciato a occuparsi c'è stato ve l'accorcio e poi è venuto da Alessandro il quale ha fatto dei bei libri blu però a quel punto io mi agitavo sempre avevo pensato di poter fare una società siccome avevamo fatto precedente una specie di consorzio operatori genovesi dico chiediamo un'aria in concessione gestiamo un'aria i portuali hanno un monopolio ma non su tutto noi facciamo un'attività meno condizionante e riusciamo a farlo andata avanti per un po' poi da Alessandro ha detto sì bellissimo ma facciamo 51% autorità portuale 24% voi 24% compagnia io ho detto no sta in piedi i miei soci però volevano farlo mi sono dimesso i soci sono andati avanti hanno fatto da Alessandro ha fatto uno scontro violentissimo con i portuali giocando su una capacità di immagine estrema a quei tempi Battini era come Billarden lo cercavano tutti però poi l'ha commissionato alla compagnia alla fine è ritornato tutto come prima però la situazione continuava a peggiorare e da prima avevamo cercato di dare il salario garantito cioè dice l'evoluzione vi porta via dei posti di lavoro però voi finite parati lo stesso e è stato anch'io pensavo potesse servire a qualcosa è stato il classico boomerang portuale il giorno dopo ha detto se sto a casa prendo una giornata io vengo a lavorare con te ma me ne dai due se no non vedo perché venire poi abbiamo incominciato i prepensionamenti finalmente nell'89 i portuali erano diminuiti è arrivato Prandini che ha detto come prevedeva la legge e che sì i portuali avevano esclusivo ma per alcune attività e non per le altre i decreti Prandini hanno limitato le attività non se n'è fatto niente non è mai riuscita a imporsi però in quel momento ci ha dato anche a noi l'autonomia funzionale l'articolo 110 prevedeva che in alcuni casi valeva l'autonomia funzionale cioè il ministro poteva permettere a determinati operatori di operare senza i portuali e si è tutto bloccato anche l'autonomia funzionale io però a quel punto perché cos'è il problema del porto io amatore arrivo e chiedo delle portuali mi dicono no e bloccano non è lecito bloccare ma siamo in un paese democratico in cui la polizia giustamente non interviene a quel punto io posso resistere 12 14 30 non è più il portuale può resistere due mesi non fa una piega tanto il lavoro lo farà dopo in fuori orario e quindi vincevano sempre loro nell'autonomia funzionale io non mi bloccava con i portuali perché intanto in orario normale quelli venivano ti pagavamo noi non li chiamavamo ma poi una volta che erano venite e pagavamo non facevano niente perché lavoravamo noi andava tutto bene però allora i portuali non potevano dichiarare sciopero perché è un problema nostro hanno dichiarato l'astenzione al fuori orario a quel punto in orario normale potevamo lavorare in fuori orario non potevamo lavorare perché in orario normale potevamo lavorare perché teoricamente c'erano loro poi erano andati a bar ma quello è un dettaglio operativo in fuori orario loro non potevano esserci quindi non noi non potevamo lavorare ci bloccava e lì che ho scoperto una chiave di rottura del sistema ho visto che noi a febbraio c'era poco traffico eravamo bravini riuscivamo a lavorare in orario normale quindi finivamo la nave finita la nave però avevamo ancora due contenitori da muovere e a quel punto volevamo lavorare in fuori orario con i due contenitori loro ci bloccavano noi stavamo fermi eravamo lì e poi scrivevamo il evitare che il reato venga portato a ulteriori conseguenze tutte le cose io andavo spesso dal magistrato in procura dicendo sospiamo benissimo che siamo un paese democratico e che quindi la polizia non interviene però se un mio diritto mi viene stabilmente negato non siamo più un paese democratico è andata avanti venti giorni in cui noi tenevamo due uomini di guardia su due camion ehm per i lì nella cabina riscaldata loro tenevano venti uomini in strada sotto la pioggia al freddo finalmente poi sono andato dal magistrato che ha firmato l'ordine di intervento arrivati in nome della legge se sono andati a casa e abbiamo ottenuto l'autonomia funzionale a quel punto il discorso è venuto su Genova mi sono chiesto lo stesso tecnica possiamo usarla su Genova noi arriviamo facciamo finta di voler lavorare abbiamo a bordo dieci contenitori da sbarcare abbiamo una nave che fa un servizio sulla Sardegna a dodici ore di margine alla settimana può perderle a Genova abbiamo una nave da scaricare ci bloccano soliti discorsi è andata avanti per un po' fino a che il 14 luglio del 92 la polizia è venuta informando c'è un problema di ordine pubblico erano tutti d'accordo con i sindacati che non potevano curare il disordine e c'è stato tutta la mattina in cui il discorso con Battini con una trattativa che sapevamo benissimo che non aveva soluzione lui diceva noi vi facciamo di tutto e noi io dicevo però vogliamo gli esclusivi dicevo noi vogliamo non possiamo dare esclusiva poi al di fuori dell'esclusiva siamo pronti a tutto a mezzogiorno lui è venuto in banchina dove c'erano duemila uomini schierati suoi e duemila poliziotti in assetto a combattimento forse hanno più di più ha guardato un po' ha capito che i suoi uomini erano pronti a obbedire ma non valeva la spesa non era una cosa finita la riforma portuale nasce perché Battini ha capito che il sistema non pagava più e quindi è meglio rinunciare ad alcuni privilegi ma fare un'altra cosa ha detto Fischer le un pareggio è salito su un contene Fischer le un pareggio e abbiamo lavorato e di lì è partita la riforma in verità noi lavoravamo in fondo in forza ad una sentenza della comunità che diceva che il portuale che poneva dei limiti dei portuali al momento c'era sembrato una botta di poi leggendo va bene non diceva niente io nel mio libro ho detto ma perché il legislatore e il giudice prima di scrivere qualsiasi cosa fanno un corso da Sibilla Cumana perché non si capisce mai cosa dicono comunque dopo questo scontro è uscito fuori il magistrato chiarito subito non avevamo diritto a lavorare a noi ci ha autorizzato a lavorare perché avevamo armatori e quindi c'è un diritto all'autoproduzione comunque e al VTE che a quei tempi si chiamava VTE il il ministro ha interrotto le ferie il quattordici d'agosto è tornata a Roma e ha dato l'autonomia funzionale al VTE se no saltava tutto a settembre allora per non far saltare il sistema e hanno emesso un decreto legge che prevedeva la riforma è andata avanti e da quel punto potevamo lavorare eravamo regolari naturalmente con mille trappole che io ho seguito la legge in prima persona perché il presidente della commissione portuale era a confitarmi era a confitarmi a fare queste cose non vi dico cos'è questi lotte ufficiali e non ufficiali cioè nessuno diceva l'opposto tutti dicevano la stessa cosa ma poi ci aggiungevano una parola in più o in meno che cambiava tutto io avevo una mia controparte che era dottor giorgola un dio della capacità di di io dico la guida indiana ma quella vera non come me che era un dilettante e tutto per esempio il discorso era giocato su impiegare o assumere il vecchio decreto legge aveva una clausola salvaguardia dell'attività precedente e diceva se dovete assumere qualcuno dovete assumere dare a precedenza l'assunzione ai portuali è giusta e dopo ha detto e infatti noi facevamo la domanda se c'era qualcuno in tutta la storia ce n'è stato uno che è venuto con noi se no nessuno ha accettato il passaggio facevamo tutta l'ora non veniva nessuno poi invece hanno messo impiegare impiegare voleva dire che dovevamo usare la compagnia quindi la riforma non c'era poi la fiat e credevo che fosse la fiat cioè voltri assunto 100 giovani io pensavo scattasse un 700 che li bloccava non è scattato non lo so perché forse non c'era neppure una penale per chi non seguiva la legge da quel momento la riforma ha funzionato da quel momento è partito tutte le volte risolviamo un problema si apre problema successivo prima di passare al problema successivo cioè c'è stato un aumento di traffico spaventoso le infrastrutture non hanno più retto prima di passare però a questo aumento a questo passaggio io per darvi un attimo di riposo e prendermelo anch'io vi faccio vedere un filmetto di tre minuti abbastanza divertente del nostro carico e scarico delle navi è un sistema che il mediterraneo non esiste noi l'abbiamo copiato bruttamente dai porti del nord ed è un sistema che ci permette di lavorare a navi in tre quattro ore contro le otto dieci ore di prima col sistema tradizionale cioè siamo passati da circa 30 contenitori a 120 contenitori ha cambiato la nostra vita e se sono qui a parlarvi di queste cose perché abbiamo messo quel sistema se no probabilmente facciamo vedere il filmetto intanto ci riportiamo sì bene io intanto col per con le persone online mi scuso per l'eventuale audio dell'eventuale audio devo fare una operazione di barche parco girata non la faccio vedere si condivido anche con c'è il tempo reale in cui si vede che di fatto dovremmo utilizzare il microfono e tutta operazione viene fatta scusate ok chiedo a livia se si vede la video online mi scuso e la faremo prima o poi sono confidente anche su di me dovevo rimanere fermo che si vede che non viene fiorizzato perché è arrivato a bordo esattamente a misura della nave tutta la struttura viene appoggiata sulle pareti dei tempi sì ma non penserei di non parlare grazie 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 tanto per capirsi siamo a marine e carare perché da Genova ci hanno buttato fuori con 36 ore di tempo per scombrare e non erano teoriche erano reali comunque questo meccanismo ci fa risparmiare 6 ore a viaggio se noi queste 6 ore dovessimo risparmiarle in navigazione dovremmo passare dai 18 nodi attuali che facciamo attraversati in 20 ore ai 26 nodi per farle in 14 ore non credo che le nostre navi potrebbero fare per velocità sia per sagua ma che per potenza comunque dal prossimo anno sarei proibito per i troppi consumi energetici comunque se riuscissimo e se lo facessimo triplicheremo almeno il consumo di combustibile a quel punto siccome il consumo di combustibile è oggi 50% del costo nave raddoppieremo il costo della nave del Nolo questo lo dico perché poi quando parleremo questo fa capire perché l'armatore vuole ridurre i tempi portuali perché gli permette di aumentare i tempi in mare che vuol dire risparmiare cifre spaventose comunque risolto il problema portuale il portuale incomincia a funzionare noi facevamo 300.000 teo all'anno in sette anni siamo arrivati a un milione e mezzo abbiamo avuto un aumento di 500 volte con un tasso di incremento medio di 24% nel 2000 il sistema si è saturato da quel momento non è che non abbiamo più aumentato aspettate che mi rimetto da capo se no poi non è che non abbiamo più aumentato siamo aumentati leggermente l'uno, l'uno e mezzo per cento in 23 anni siamo aumentati del 60% ridicolo c'è stato il covid e non il covid anche noi abbiamo il covid eppure continuiamo a aumentare a due cifre perché? e qui un po' di storia può aiutarci il nostro porto parte da San Piazza Arena praticamente degli anni 30 vediamo eccoci questo è il porto di San Piazza Arena erano circa 4 km di spiagge tombate che però costruivano 10 km di banchina qui con la banchina a pettine oggi lo vedete due pettine sono stati eliminati cioè Taron, Canepa e Bettolo comunque c'erano 10 km di banchina che permettevano a quei tempi di ospitare 80 navi erano banchine fatte con grande longimiranza avevano un fondale di 11 metri a quei tempi ne pescavano 6 avevano un canale d'accesso largo 200 metri a quel tempo erano lunghe 100 le navi quindi c'era una certa tant'è vero che lo usiamo ancora oggi in un mondo completamente cambiato ora giustamente pensiamo di spostare la diga ma il mondo è completamente cambiato avevamo soprattutto vedete che sono fatti inclinati un po' per facilitare l'ingresso a nave ma non c'era problema perché erano navi piccole e entravano ogni pontile aveva il modulo della nave di 100-120 metri infatti il suo standard è 140 metri 140 metri è la testata è la cantia non so come si dice in italiano in fondo la base ed è tre volte la parete per cui otto navi potevano lavorare a quei tempi le navi erano piccole e lente a caricare per cui c'era l'imbarco sbarco diretto sulla nave quindi non c'era bisogno di spazio perché il camion che poi fondamentalmente era treno arrivava sotto bordo e veniva caricato io ho ancora lavorato sulla Sardegna che noi avevamo la nave qui dove oggi c'è l'acquario la nave ormeggiava venivano al mattino due vagoni li caricavamo poi nell'intervallo manovra vagoni andavano via eccetera il sistema era molto avanzato perché su tutte le banchine c'era la ferrovia quindi credo che fosse uno dei più grossi impianti portuali europei tant'è vero che per anni non è stato saturato quando io ho incominciato a lavorare gli ultimi pontili ronco era ancora addibito non a porto ma c'era una struttura sopra della guardia di finanza poi è scattata l'evoluzione tecnologica l'evoluzione tecnologica parte negli anni 50 McLean inventando il container noi le prime nostre navi lui era inventato nel 56 la prima nostra nave era del 67 che non è poca cosa a 11 anni di distanza il container aumenta la velocità di carico e scarico notevolmente a quel punto non è più possibile l'imbarco e lo sbarco diretto dobbiamo fare l'imbarco e lo sbarco via piazzale quindi non è più determinante il numero di banchine ma è determinante lo spazio necessario noi abbiamo recepito questa cosa sia con quei riempimenti sia col porto di Voltri in cui banchina linea capio spazio a monte per un po' abbiamo funzionato e che poi il traffico cresce e nel 2000 abbiamo saturato tutti gli spazi disponibili e non ce n'erano altri fino al 2000 abbiamo fatto Prà coprendo altri 4 km di costa con molte opposizioni ma l'abbiamo fatto oltre oggi se uno pensa ad allungare la diga basta che gli allung e gli sparano dentro e confesso che io sono tra quelli che sparerebbero e quindi siamo bloccati su questa superficie che è una superficie assolutamente ridicola ieri ho visto che abbiamo 700 ettari di spazi portuali e su via signori effettivamente dall'uscita del Bisagno a Voltri ci sono 14 km che sono quelli di diga se prendiamo una striscia di 500 metri sono 700 ettari caso vuole che in questa striscia abbiamo di tutto solo marginalmente l'attività portuale abbiamo la fiera del mare abbiamo le riparazioni abbiamo il porto antico abbiamo una serie di cose e poi abbiamo questi due pezzi portuali gli unici da 100 ettari l'uno e 100 ettari credo che sia abbondante ma comunque l'ordine di grandezza è quello e non possiamo più crescere e siamo dal 2000 che siamo fermi perché non abbiamo lo spazio per crescere e non ce ne accorgiamo questa è la cosa che confesso a me mi meraviglia e continuiamo a dire adesso ancora oggi c'era un'intervista al presidente dell'autorità portuale che diceva la nostra forza è di essere un porto multipurpose e ha ragione di fare di tutto e ha ragione e ora cresciamo ma perché? perché facciamo il terzo valico? perché facciamo la gronda? perché spostiamo la diga? tutte cose utili si lavora meglio ma i 200 ettari rimangono 200 ettari e se non usciamo di lì non c'è nessuna possibilità di uscire in questa crescita del traffico poi è successo un fenomeno inizio anni 2000 un po' dopo che è il gigantismo navale l'esplosione della grande nave in cui che di nuovo attenzione non è un fatto nautico o di costruzione navale le navi le sapevamo costruire già molto prima è un fatto portuale hanno inventato abbiamo ma in verità hanno inventato una tecnologia che permetteva di andare a livelli di carico tali da essere conveniente alla grande nave però tra grande nave e invece traffico tradizionale sono due cose che non hanno nessun rapporto fra di loro perché si muovono su valori che hanno uno zero di differenza se noi continuiamo a fare come stiamo facendo di mischiare le due cose non capiamo niente non andiamo da nessuna parte la grande nave riguarda le grandi distanze che vuol dire estremo oriente Europa poi c'è tutto il traffico mediterraneo c'è tutto il traffico dell'Africa c'è tutto il traffico del Sud America perché ci sono migliaia di traffici poi c'è le navi traghetto le passeggeri le cose quelle non seguono questa regola e allora dobbiamo seguire logiche diverse per le due cose e non mischiare perché se no non capiamo più niente per servire la nave tradizionale dobbiamo però aumentare lo spazio e siccome non possiamo allungare la diga c'è un'unica possibilità usiamo le dighe foranee oggi noi abbiamo 14 diga foranee non utilizzata bisogna usarla bisogna collegarla a terra allargarne e farne un porto il progetto che poi vi presento usa la diga foranee di Pra in una logica diversa più facile per l'uso della diga però usa la diga foranee di Pra ma questo discorso dello spostamento diga ha un senso tanto da un punto di vista tecnico forse ma io non entro in campo tecnico c'è gente più brava di me come l'amico Silva che ci entra lui ma in campo logistico non ha senso che spostiamo la diga senza aumentare di un metro lo spazio portuale o peggio diciamo che noi adesso riempiamo tra due pontili riempiamo tra due pontili e allora abbiamo lo spazio portuale che facciamo concorrenza a Rotterda e tra due pontili sono 5 ettari sono spazi ridicoli ecco forse non ve l'ho detto ma i porti del nord sono dai 10.000 ettari in su le salte è quello e in compenso loro hanno tanto spazio ma non hanno fondali non hanno accessi Hamburgo ha 120 km il canale del Agrato a 14 metri dovrebbe andare almeno a 17 metri però tutti i paesi dell'erba dicono se tu scavi io vengo giù e quindi sono problemi che non di facile soluzione noi invece abbiamo meravigliosi accessi meravigliose possibilità nautiche si entra direttamente nel porto di Pra che ha 25 metri di fondale la diga foranea ha 20 metri di fondale non abbiamo gli spazi e andiamoli a prendere su via non è così difficile tra l'altro questa mancanza di spazi tradizionali è fortissima Genova perché gli altri porti del nord Italia ce l'hanno meno Genova è il punto dove la pennina è più ripido e quindi appena arriviamo alla linea del mare quando andiamo su fondali enormi non abbiamo spazi a terra a Spezia, a Livorno, a Trieste è molto meglio anche a Barcellona e a Valencia per cui si può crescere su di spazi tradizionali noi no spazi tradizionali non serviamo le grandi navi sia chiaro però facciamo una serie di servizi che qui non possiamo farli in compenso è un piccolo calcolo molto fatto largo circa ma attaccata alla digra che vogliamo spostare fuori ci si può mettere uno spazio e può mettere il 50% dello spazio attuale non è da buttare via non risolve tutto ma non è da buttare via dopodiché arrivano le grandi navi queste grandi navi sono un'altra cosa non le possiamo valutare con la visione tradizionale eccola qua e se noi prendiamo il carico di una grande nave lo possiamo per terra facciamo un muro ininterrotto da Genova a Milano se noi prendiamo un carico di queste navi lo carichiamo sui trailer il primo trailer è arrivato a Rotterdam l'ultimo non è ancora partito quindi non c'è niente da fare le grandi navi hanno bisogno hanno bisogno intanto di una tecnologia portuale particolare per riuscire a fare le velocità di carico e scarico necessarie a renderle convenienti questa tecnologia portuale è un salto tecnologico dimensionale che noi non abbiamo fatto e non possiamo fare perché non abbiamo la dimensione per farlo i porti del nord all'interno del recinto del terminal non c'è un uomo che opera tutti i mezzi sono automatici gli unici guidati dall'uomo mai remoto non è lì è da un'altra parte sono i mezzi che entrano in contatto col mondo esterno cioè autisti e marittimi perché vogliono un uomo di controllo per motivi di sicurezza tutto ciò da noi non c'è perché per servire queste grandi navi abbiamo bisogno di un terminal che abbia centocinquanta duecento ettari di spazio disponibile che sia possibilmente uno spazio rettangolare perché io a marine carara ho quattro ettari ma ho duemila metri qui otto metri là poi le altre o ci metto l'omino o ammazzo tutti quelli che entrano nel porto oltre a fatta non avere la convenienza queste grandi navi hanno l'obbligo la necessità di operare in cinque giorni quindi devono fare ottomila teo al giorno perché hanno quest'obbligo perché siccome il viaggio nautico è di venti giorni il tempo in porto non deve superare un quarto del viaggio se impiegano noi per esempio diciamo ma va bene noi facciamo mille e cinque ma poi non è grave se fanno ottomila in tempo totale è venti di viaggio e cinque di porto che vuol dire venticinque se invece facciamo duemila e noi non arriviamo a fare duemila ma non perché siamo incapaci ma perché a mano non si fa di più queste velocità sono velocità possibili solo ad alti livelli tecnologici fatti dalla macchina la macchina più precisa più precisione più velocità di noi impieghiamo venti giorni in porta e venti in navigazione e quarantagioni sessanta per cento in più ed è quel sessanta per cento in più che di nolo marittimo che poi lo riscontriamo ultimamente i noli sono elastici però i costi dei noli no ovviamente a mille e cinquecento dollari dall'estremo oriente al nord d'Europa e duemila e cinquecento dollari dall'estremo oriente a Genova che vuol dire cinque giorni prima di navigazione vuol dire venticinque per cento di cose ed era questo fatto del quindi se vogliamo servire le grandi navi dobbiamo avere una struttura che è in grado di avere almeno tre terminal perché poi se no diamo tutto il monopoglio a uno solo e che almeno cinque o seicento ettari di spazi portuali ma soprattutto che almeno tre o quattromila ettari di spazi logistici limitrofi perché questa merca per terra non viaggia deve raggiungere il più vicino punto in cui viene lavorata e e lì comincia la prima fase di evoluzione il porto infatti serve da calamita per la razionalizzazione dell'uso del territorio noi che non abbiamo un grande porto di riferimento il nord Italia è servito da dodici porti quattro in terreno quattro in Adriatico quattro in nord Europa abbiamo lo sviluppo a macchia di Leopardo le code nella circombrazione di Milano non sono conseguenza dello sviluppo industriale sono conseguenza del casino portuale dopodiché noi dobbiamo avere se vogliamo servire le grandi navi dobbiamo avere queste caratteristiche e allora un minimo di fantasia creativa io non ne chiedo tanta ma un minimo abbiamo detto che dietro a Genova è il punto in cui l'Appennine è più ripido se è più ripido è anche più stretto infatti è l'unico punto in cui con 38 chilometri io passo dall'isola di Pra al Terminal all'interno e quindi io immagino un volgare porto come gli altri con la differenza che il spazio di stoccaggio lo sbarco dalla nave lo spazio di stoccaggio non è lì ma è un po' più in là non cambia di niente puoi vedermi i mezzi con cui fanno questo lavoro questo lo vediamo questo è il punto più stretto ora qui io se venite a trovarmi in ufficio c'è tutti i plastici di tutta l'Italia questo è il punto più stretto della Pennine quando mi parlo di Trieste magnifico per sistemi tradizionali ma un sistema di questo genere non supererà mai quei 200 400 chilometri di monti alle spalle e poi c'è un'altra cosa un dettaglio non così trascurabile una carta morfologica noi abbiamo imparato che la Pennine incomincia il collo di Cadibona da un punto di vista geologico non è vero la Pennine arriva leggermente a est di Pra fino cioè le Alpi arrivano leggermente a est di Pra fino a quel momento lo vedete qui nel il questo è Alpi questo è Appennino e questa è la Faglia dove abbiamo costruito il terzo valico nella Faglia comunque lasciamo questa posizione sul territorio ci troviamo con 38 chilometri in una zona con tre autostrade una sull'altra una sull'altra e una sopra nella pianura più piena a spazi illimitati e con un grosso impianto ferroviario a fianco che è quello di Novi Ligure il problema è il collegamento tra il porto e la zona di stoccaggio e devo dire quando noi abbiamo incominciato gli studi col Politecnico è una tecnologia da inventare oggi non vuoi più ecco perché oggi questo è un porto del nord dell'Europa c'è un punto di fare con un distoccaggio e degli AGV cioè delle macchine automatiche senza guidatori che vanno avanti e indietro e collegano i due l'AGV è questo quello che vedete a sinistra noi abbiamo pensato esattamente la stessa cosa noi facciamo esattamente quello che fanno i porti del nord probabilmente usando l'oro AGV probabilmente facendo un AGV un po' maggiorato per le nostre necessità specifiche comunque anche usando l'ora AGV i costi maggiori di questa AGV che al posto di fermarsi a 5-6 chilometri a Pra ne fa 38 e va oltre a Pennino è circa 15 euro a container ne risparmia 70 euro a container di trasporto terrestre perché il camion che si sbarca a Pra e va a Milano prima ad arrivare a Novi Ligure e spendere 70 euro di trasportatore quindi non c'è problema è un problema che tecnologicamente non esiste più c'era non c'è più c'è il problema dell'inerzia mentale c'è poi un ultimo punto tutti dicono come è l'idea usate il terzo valico perché non capiscono qual è la potenzialità dimenticano c'è anche un mio amico che lo dice ogni tanto non sempre dimenticano di controllare i numeri se noi immaginiamo tre navi che scaricano contemporaneamente se vogliamo fare un grande porto ci vogliono perché non puoi dire a una nave scusa tu non scaricare che scarica l'altra di massa facciamo circa mille teo all'ora mille teo all'ora vuol dire 600 semirimorchi oppure 15 treni e quando Bucci mi ha detto ma no usa il treno usa il terzo valico gli ho fatto il calcolo c'è un treno ogni 5 minuti 5 minuti vuol dire che chiudiamo io non credo tra l'altro che la ferrovia lasci passare un treno ogni 5 minuti ma comunque non entriamo in merito è il mondo dell'ipotetica e comunque siccome cammina in superficie fa un tale casino che non dorme più nessuno e poi lo bloccano questa opposizione della popolazione agli investimenti è dovuta al fatto che gli investimenti sono fatti male io sono andato a vedere ultimamente vado e gli hanno dato 20 ettari giustamente loro nei 20 ettari hanno stoccato il container erano pochi non erano sufficienti tutti i servizi che sono il carico ferroviario il varco doganale la dogana eccetera hanno fatto un ponte e l'hanno messo al centro del paese credo che se uno va a prendere il caffè a vado gli passa il treno davanti magari non tocca e capisco che poi la popolazione protesta quindi quindi non c'è niente da fare su sistemi tradizionali le grandi navi per destinazione finale non confrontiamo non possono venire in Italia e non possono venire in nessun punto del Mediterraneo c'è la sola parziale eccezione di Valencia che è un punto di smistamento un hub di container e visto che lì serve anche Madrid e ha un traffico leggermente superiore a quello di Genova per cui non siamo il primo porto di destinazione finale ma siamo il secondo ma è solo perché ha l'hub se non avesse l'hub anche là non potrebbe andarci perché con due milioni e mezzo circa di container non vive quindi noi siamo tagliati fuori da questo perché non abbiamo la tecnologia e non abbiamo gli spazi per applicare la tecnologia questo vuol dire vuol dire un maggior costo l'abbiamo detto sono grosso modo mille euro di più a container e questo in Italia in verità siamo onesti l'associazione spedizioniera ha fatto un articolo su questo l'hanno tolto velocemente dalla circolazione perché se no io confesso all'inizio andavo qualche volta in a quei convegni in Fizzera poi non ci vado più perché mi vergogno sentire dire che quando c'è il terzo valico noi serviamo la Fizzera noi non serviamo neppure Milano interamente perché con i 500 mille euro di più a container conviene passare dal nord Europa e non servire perché questo vorrei chiarire aumentare il traffico a container non è un vantaggio il container è un inquinatore poco se lo gestiamo bene poco ma inquina aumentare il traffico a container serve risultante principalmente per raggiungere certe soglie minime che ci permette di uno servire il paese perché se non serviamo il paese il paese non sta più in piedi non credete che il nord Italia possa sopravvivere quando traffico arriva dal nord Europa a 1200 chilometri dal mare non ci sono zone in lutteria e se un traffico significativo forse un terzo arriva dal nord Europa vuol dire che i casti e le caratteristiche sono esse a 1200 chilometri dal mare servire invece questi container che sono tanti e devono essere gestiti bene io poi vi farò vedere come noi vogliamo gestire un attimo solo penso di starci nel tempo è 26 ma a quel punto possiamo ridurre inquinamento salvire l'Italia avere un centro logistico vuol dire 300.000 posti di lavoro che non saranno qui sono nel triangolo industriale ma ci sono avere uno sviluppo occupazionale quindi e soprattutto avere la conoscenza oggi siamo tagliati fuori dalla conoscenza della logistica gli impianti che voi avete visto là quando nel filmino il ferro è italiano tutto il resto lo compriamo al nord e qui non c'è però questo vuol dire anche gestire in maniera diversa e qui velocissimo vi faccio ecco comunque noi oggi serviamo circa poco più di Milano e in questa maniera andremo a servire metà della dell'Europa cioè l'Europa è larga 1200 metri noi diciamo 1200 chilometri 600 di qui 600 dal nord a quel punto se noi cerchiamo il mercato a 600 chilometri questo è un studio che ha fatto la Rina bravissimo non lo immaginavo allora ci accorgiamo che io pensavo che noi servissimo la pianura padana ed intorno invece che la pianura padana è solo un terzo del mercato potenziale un terzo è l'Affizia e un terzo è tutti gli altri paesi esteri quindi siccome la pianura padana con l'estremo oriente fa 3 milioni di container abbiamo un traffico potenziale di 10 milioni che però è un quantitativo spaventoso che bisogna gestirlo bene e questo è l'ultimo punto questo è il nostro progetto noi prevediamo una collina artificiale che gira tutto intorno al porto in modo che il porto rimanga staccato dalle parti abitative soprattutto questa collina artificiale a valle della collina artificiale c'è una zona di spazio abbiamo calcolato circa 60 metri di larghezza che viene data alla città in modo che ritrovi un fronte a mare questa qui è collegata a terra da un ponte in modo da lasciare sotto il passaggio dell'acqua e sul ponte ci passano le macchine macchine ludiche non il camion non c'è un camion che arriva nel porto perché arriva tutto su questi AGV vista ciclabile e tutto ma soprattutto il punto di base dentro questo ponte che è alto 21 metri ci camminano i metri pesanti ci camminano gli AGV perché se camminano in superficie fuori non dorme più nessuno se invece camminano dentro nessuno li vede e forse può andare avanti secondo me questa logica si dovrebbe applicare anche allo spostamento della qui forse il sogno grazie 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 grazie